Sapevamo e sappiamo che il campionato è difficile, certo che cominciare con tre sconfitte non è il massimo, il lato positivo è che su ogni partita le abbiamo lottate fino alla fine, quindi pur giocando così così c'è da essere ottimisti perché riusciamo comunque a arrivare in fondo a combatterle. Un tuo giudizio dall'alto della tua esperienza, non tu che ne hai viste tante? Ne ho viste tante, c'è poco da parlare, c'è da mettersi sotto, da allenarsi, da giocare insieme con tanta umiltà e poi le cose verranno. Che periodi aspetti da quella di Sabato? Ma come tutte non c'è una partita facile in questo campionato, mi aspetto da parte nostra sangue agli occhi e tanta voglia di vincere.